Entra in un supermercato di sedico nel Bellunese e fa la spesa gratis. I carabinieri lo inchiodano e dopo aver sequestrato il bottino lo donano agli anziani della casa di riposo. A finire nei guai un 45enne dell'alta padovana che è stato denunciato per furto della merce. I militari lo hanno trovato con le borse piene per un valore di centinaia di euro. Una era nascosta poco lontano, proprio quest'ultima è stata consegnata dai militari agli anziani della casa di riposo.